Buonasera a tutti, ben ritrovati. Questa rappresenta la mia cena del venerdì di questa sera e questo venerdì. Abbiamo questo piatto che è fatto con orzo, lenticchie verdi e quelle rosse decorticate, una manciata di olive tagliate a rondelle, sedano e carote tagliate a listerelle più affettati, un pochino di mananzana e 5 pomodorini tagliati a fettine. Si cuoce tutto assieme iniziando dall'orzo in forma secca che io compro assieme alle lenticchie che sono già pronti, ci vuole circa una cottura di 20 minuti, si inizia usando l'orzo con le lenticchie, mettendo l'acqua con la padella antiaderente. Io stasera ho utilizzato del brodo che avevo in avanzo perché ho cotto il pollo per uovo praticamente. E' un piatto molto buono, poi dopo aver fatto questo aggiungo le olive, il sedano e le carote tagliate, la melanzana a pezzetti già pronta e infine i pomodori. Lascio tutto cuocere in totale una volta finito per 20 minuti. L'acqua di cottura o il brodo deve asciugare completamente. Buon appetito, a presto e buona serata. Ah, ricordati di mettere un mi piace e iscriviti al mio canale attivando le notifiche. Ciao!